400 interventi nell'anno della pandemia per il reparto accorpato e sacrificato dall'emergenza covid. La boccata d'ossigeno per l'urologia dell'ospedale di Sulmona è arrivata nei giorni scorsi con l'assunzione di un dirigente medico per un periodo di sei mesi con rapporto di lavoro a tempo determinato. La ASL aveva bandito un avviso pubblico che ha ottenuto tre istanze. Al colloquio orale si è presentato solo il candidato Mario Ferritto che è entrato quindi a far parte della pianta organica del reparto che condivide gli spazi con ortopedia nell'ottica della razionalizzazione di prestazioni e personale. Una seconda figura che seppur per un periodo limitato potrà dare manforte il responsabile che per circa due mesi ha traghettato il reparto. Repelibile giorno e notte con carichi di lavoro intensi al di sopra anche dell'umana sopportazione. Al primo piano di via Montesanto si lotta per non perdere le staffe e mantenere i nervi saldi. Ora non sulla carta si intende ma nella sostanza sono in due ad operare nel reparto che nonostante l'emergenza e lo stop alle prestazioni indifferibili ha raggiunto comunque numeri dignitosi ovvero la quota di 400 interventi eseguiti nel 2020. La speranza è che dall'azienda sanitaria venga presto bandito un avviso pubblico per il reclutamento almeno di un'altra figura ma a tempo indeterminato altrimenti in assenza di interventi a lungo periodo si rischia di rimanere in affanno ad oltranza con ovvie conseguenze su sistema. L'interventi nel breve periodo lasciano il tempo che trovano. Diversamente anche l'ospedale dopo le ultime proroghe e assunzioni rischia di diventare un presidio a tempo determinato.